La sua lune è Argentina! Don't cry, don't cry! Vediamo, tanto un po' di Rihanna! Wow! Great transfer! Wow! Wow! La professione! Tanto scorda nella tecnica del circuito, scusatevi, del bike car. Vediamo cosa ci combina! Wow! 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 Nessun riferita! Dottissimo! Di quattro ore! 3,60 e volte! La scettiva pubblico un applauso! Si porta una volta più di volta! Voi! 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 Voi!